Posto? Ok, va bene, noi parlando della partita di domenica, chiaramente mi aspetto che la squadra continui sui progressi che ha dimostrato già domenica scorsa e che sta mostrando in settimana. Dove sicuramente stiamo lentamente ma progressivamente migliorando e quindi anche se di fronte abbiamo un avversario di cui dopo magari parliamo più nel dettaglio di tutto rispetto, quello che sicuramente io mi aspetto di vedere è che questi progressi di questi giorni, di questi allenamenti che cominciamo con una certa continuità a fare assieme si vedono anche sul campo. Seconda cosa importante, chiaramente avendo perso la partita di esordio con Pesaro qui e poi abbiamo anche due trasferte consecutive molto difficili, per noi è una partita molto importante. Non è un punto di svolta perché siamo all'inizio del campionato, però insomma è una partita che sicuramente in casa nostra riveste una certa importanza. Penso che la squadra sia molto determinata in questo senso, sta lavorando bene con concentrazione, fisicamente a parte qualche acciacco di routine, insomma stiamo recuperando comunque acciacchi controllabili, però tutto sommato la situazione è abbastanza buona e quindi vediamo un po' domenica poi, la prova del campo cosa ci dirà. E quindi? Quando riguarda le rotazioni degli esterni posti, c'è DIN che magari non è un ottimo momento di forma, ma invece dall'altro canto sta dimostrando di essere un grande spunto. E quindi? Lo lasciano fuori i DIN e facciamo il Cavaliero? No, 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 no. Se lei si sta perché tu per leggere a chi ci vuole tempo perché sta iniziando ad avere un indietro? Ma insomma, una cosa sicuramente vuol dire, a parte che è chiaro che legge dei numeri, Taquan ha fatto due partite con numeri molto bassi dal punto di vista statistico, però magari ci dà qualcos'altro in altri settori del campo, poi quello che un po' alla volta la squadra deve fare è quella di ogni giocatore deve essere farsi trovare pronto quando entra in campo e non stop, poi su quanto gioca, come, chi, cosa, insomma questo è un problema più mio sicuramente legato a scelte che sono personali, questo è un gioco, lo dico sempre, è un gioco dove in ogni azione si può sindacare la scelta difensiva, offensiva, chi è in campo, chi è in campo, perché ha passato di là e non ha passato di là, perché ha fatto questo, quindi vale tutto, siccome poi io dall'altra parte devo decidere io, nell'ambito di quello che è l'obiettivo comune che abbiamo, quindi decido in base a una serie di situazioni, quindi penso che ho giocatori, di avere a che fare con giocatori veterani anche da questo punto di vista, insomma, quindi mi aspetto e pretendo che loro siano pronti quando vanno in campo, quando vanno in campo e penso che lo saranno, poi chiaramente c'è un po' di tempo perché ognuno capisca meglio qual è il suo ruolo, che cosa si aspetta l'allenatore, che cosa è, però questo è normale, noi sappiamo che il precampionato questa squadra qui sostanzialmente non l'ha fatto, e quindi dobbiamo sfruttare gli allenamenti in primis e poi le partite di campionato. Coach, anche la Vittus Roma ha aggiunto solo nell'ultimo periodo i due giocatori che, immagino comunque ai fini del discorso generale, sono molto importanti, Niaschie e Teilo, ecco, più o meno alla Scandone è successa la stessa cosa con Vodacovic e con Egesi, questo potrebbe risultare come fattore fondamentale per l'essere della partita, piuttosto che altro? Roma è sicuramente una squadra di più che buon livello, con una profondità anche di panchina importante, che penso che abbia, come tutte le squadre che adesso cominciano la Coppa, prendono una buona esperienza dal punto di vista proprio del giocato, soprattutto nella prima fase di campionato, perché questo gli dà dei vantaggi proprio dal punto di vista pratico, è una squadra con dei giocatori che hanno fatto la finale Scudetto l'anno scorso, che hanno fatto un grande campionato, chiaramente parlo di Taylor, Gosse ed Ercole, quindi dietro hanno questo aspetto qui, hanno giocatori esperti nel nostro campionato, come Egeschi, come Rigetti che sta dando il suo contributo, Quinton Mosley che è un altro ottimo giocatore, insomma tanti giocatori, tante soluzioni tattiche, in Coppa hanno presentato un quintetto di un certo tipo, in campionato invece si sono presentati con un quintetto diverso, quindi insomma parliamo di una squadra sicuramente di ottimo livello, ben strutturata anche non solo per il campionato, ma anche per l'onorare l'Eurocup che sta facendo, un allenatore esperto, quindi una partita da questo punto di vista per noi è molto difficile. Sicuramente dei progressi si sono visti in campo, a cominciare dal livello di energia che abbiamo espresso, dall'attenzione, dalla concentrazione, dal giocare assieme, abbiamo fatto sicuramente l'ultimo quarto, abbiamo pasticciato un po' troppo, ma insomma quando c'è stata da fare la partita, questo era l'aspetto positivo, l'abbiamo fatta veramente, insomma dal punto di vista sia difensivo che offensivo, dobbiamo essere capaci di alzare ancora un po' di più la qualità, di estendere i minuti anche di qualità, di pari tempo e da questo punto di vista io penso che siamo sulla buona squadra, sulla buona strada, non siamo ancora a 100 però ci siamo sicuramente smossi da sotto, poi è chiaro che anche la presenza di Ivanov è importante per noi, quindi a Pistoia abbiamo risentito anche di questo, positivamente, però insomma in generale tutta la squadra si è espressa un po' meglio. Ti volevo chiedere sempre in merito alla gara di Pistoia, dopo una settimana si è fatto, quindi che cosa mi ha funzionato nell'ultimo quarto? Secondo me una serie di fattori che messi assieme magari non ha fatto sì che Pistoia recuperasse troppo, sicuramente abbiamo fatto, nel momento in cui abbiamo cominciato ad essere stanchi fisicamente, abbiamo cominciato a rifugiarsi nel tiro da fuori, perché l'ultimo quarto abbiamo tirato più da tre punti che da due punti, pensando che la partita fosse finita, abbiamo sbagliato tutti, abbiamo dato qualche contropiede in più, ci siamo rilassati troppo, poi bisogna riprendere il filo della partita, quindi si fa il doppio della fatica, insomma anche questi sono processi di maturazione che anche una squadra composta per lo più da veterani ha bisogno di questi passaggi qua, insomma di soffrire ogni tanto, di sbattere il naso come è successo con Pesaro, di rischiare un po' troppo, insomma però non è una questione comune abbastanza, insomma credo che il risultato in sé poi non sia mai stato veramente, non è mai stato a rischio, insomma, poi voglio dire, io magari qualche volta esagero, ma anche nelle difficoltà, penso che i giocatori che sono in campo devono anche imparare a risolversere, come dire, non è che c'è sempre una soluzione magica, magari siamo andati un po' lunghi in certe cose, insomma, vabbè, pazienza, l'importante era mantenere il controllo, come dire, e portare a casa una partita che è indubbiamente verità di vincere, questo non c'è dubbio. Ci sono altre domande? Stai a posto? Grazie a tutti. Ci vediamo domenica.